Nuovi controlli a tappeto nell'attività commerciale di Mestre. Bar, parrucchieri, una pescheria, un centro massaggi, il blitz dei carabinieri qui in via Piave e in via Carducci per i controlli nei negozi tutti gestiti da cinesi e tutti irregolari. Pesante la sanzione, pari a 100.000 euro. Tra le principali infrazioni riscontrate la mancata attuazione alla solubilità degli alimenti con scarse carenze igienico-sanitarie in alcuni locali. Mancata formazione dei dipendenti in fatto di sicurezza sul posto di lavoro e ancora l'omessa autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza. Un quadro questo, cui si aggiunge anche un lavoratore impiegato in nero. L'attività ha permesso di riscontrare una lunga serie di infrazioni con il riferimento all'autorità giudiziaria di cinque dipendenti a supportare i militari della compagnia, il NAS, Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Treviso e il NIL, Nucleo Ispettorato Lavoro di Venezia. Al momento nessuna attività è stata sospesa, ma se non si dovesse mettere in regola secondo le vigenti normativi di legge, il rischio è più che concreto, visto che i controlli dei carabinieri sul territorio proseguiranno nelle prossime settimane, non solo come importante segnale di legalità, ma anche come forma di tutela per i consumatori.